Da due giorni è sciopero della fame per attirare l'attenzione su uno dei problemi degli allevatori, la mancata erogazione dei fondi europei relativi alla misura 10 del programma di sviluppo rurale destinata ai pascoli, fondi che dovrebbe rilasciare la regione ma che agli allevatori arrivano sempre con estremo ritardo. Così il vice sindaco di Pescina, Tiziano Giulianella, allevatore di Ovini del 1993, ha deciso di avviare uno sciopero della fame che si protrarrà, dice a oltranza, fino a quando non sarà ricevuto e ascoltato dagli assessori regionali competenti e dagli uffici che si occupano dello sblocco dei fondi europei per gli allevatori. Per un assurdo cavillo non riesco a ottenere i 20.000 euro che mi sono stati riconosciuti, spiega, esibendo una serie di cartelli che richiamano anche le parole dello scrittore Ignazio Silone. C'è un rimpallo di responsabilità tra la GEA, l'Agenzia per le Erogazioni del Ministero dell'Agricoltura, e la Regione, spiega il vice sindaco, che nel frattempo non riesce più a pagare i fornitori, i dipendenti, mentre il numero dei suoi ovini si assottiglia ogni anno di più. Massima la solidarietà e la vicinanza espresse al vice sindaco dall'intero comune e dai suoi cittadini. Nel sciopero della fame sono stato costretto a questo gesto, poco consono per la mia salute, sicuramente sì, ma siamo arrivati a un punto di non ritorno, con fondi europei, con lo stesso PSR regionale che non vengono erogati ancora, dei stessi fondi dell'annualità maggio 2018. Sono in circa 17-18 mesi che non si vede la luce nel tunnel. Lei fa l'allevatore da molti anni? Io faccio l'allevatore del Bino 1993, avevo quasi mille capi, purtroppo con la burocrazia di questi ultimi anni, e non solo, sono stato costretto a diminuire anche i capi perché le spese erano così esorbitanti e il ritardo pagamento di queste varie misure, della 10 e della 11, sarebbe un biologico e prati pasco e altro, vengono pagate proprio in ritardo. Per acquisire la nostra dignità ci vogliono 55 anni come ce l'ho io, ma questi signori, tutti indistinamente, senza puntare il dito contro nessuno, con 55 secondi ce la stanno facendo perdere e siamo costretti a serrare le nostre aziende.